Allora, lì chi parla qui? La Lazio non è terra di conquista, purtroppo noi apparteniamo a Roma, Roma conquistata il mondo e la Lazio conquisterà il mondo del piano mercato, quindi portate i sordi. Grazie, 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 grazie. Faccio appena a tutti, le aguile dove stanno? Sulle montagne, queste sono le tre cime della Maneto, le aguile che sono rassano i rubacchiotti e i camionosi. Grazie. 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 Grazie.